seduta solenne del consiglio regionale per la festa della toscana celebrata dopo lo stop del 2020 il focus è stato riservato alla sfida contro i messaggi d'odio testimone d'eccezione come la senatrice segre e il calciatore culibali mazzeo giovani non giratevi dall'altra parte è tempo di bilanci per il progetto toscana plastic free che ha visto in campo pubblica amministrazione privati e scuole ognuno nel suo piccolo ha fatto qualcosa per rendere la toscana più accogliente e bella mazzeo però alza ancora l'asticella nel 2030 la prima regione sostenibile d'europa la rivoluzione civile di pietro leopoldo ha cambiato il corso della storia se nel 1786 la toscana fu il primo stato a abolire la pena di morte quasi tre secoli dopo della condanna capitale non vi è quasi traccia nel mondo libero in compenso di sentenze ne mette continuamente il popolo di internet non sono a morte ma lasciano un segno profondo che può portare a gravi conseguenze non a caso la festa della toscana ritornata dopo un anno di stop per il covid è stata incentrata sui linguaggi d'odio ne sa qualcosa l'iliana segre senatrice a vita e sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti che ha inviato un messaggio audio per le celebrazioni parole riprese dal presidente del consiglio regionale antonio mazzeo che ha aggiunto ragazzi non voltatevi mai dall'altra parte al suo fianco il presidente regionale eugenio giani che ha ricordato la spinta innovativa di pietro leopoldo questa è la festa di tutte le cittadine e tutti i cittadini della toscana non vuole essere una ricorrenza per ricordare per quanto la toscana è stata all'avanguardia nel mondo abolendo per prima nel 1786 con pietro leopoldo la pena di morte e non vogliamo fare solo questo perché basta leggere i dati di amnesty ci dice ancora e metà dei paesi al mondo non hanno abolito la pena di morte ma oggi vogliamo mandare un messaggio specialmente alle ragazze e ragazzi più giovani non siate mai indifferenti la toscana ha scelto sempre di stare dalla parte giusta della storia e noi dobbiamo continuare a fare lo stesso portando con forza il tema dei diritti al centro della nostra azione alle ragazze e ragazzi dico che oggi è un po un passaggio di testimone un passaggio testimone in cui trasferiamo quelli che sono i nostri valori la toscana è terra di diritti e terra di accoglienza la toscana vuole essere all'avanguardia anche nella lotta ai linguaggi d'odio per questo abbiamo legato le due cose ai ragazzi più giovani alle ragazze dico di non voltarsi mai dall'altra parte se un loro coetaneo è molestato è molestato in rete oppure dal vivo avete visto cosa è successo alla vostra collega greta qualche giorno fa e questo è solo un caso piccolo rispetto alla violenza che ogni giorno tante donne e tanti uomini ancora subiscono l'anno scorso la festa della toscana non la potevamo fare perché eravamo in piano covid eravamo in una situazione in cui vivevamo anche più di 15.000 16.000 contagi a settimana e oggi che ne abbiamo 3.200 così come l'anno scorso vivevamo anche 70 morti il giorno ieri sono stati quattro in toscana con ospedali che avevano anche un'occupazione che andava a 3.000 con quest'anno che invece sono 315 la festa della toscana l'abbiamo potuta rifare e l'abbiamo potuta rifare come avviene dal da 20 anni dal 2001 anzi la prima manifestazione la fece il comune di firenze nel 2020 all'insegna di questo messaggio che è di rievocazione storica sì ma soprattutto è di proiezione verso il futuro fumo il primo stato al mondo 235 anni fa era il 30 novembre del 1786 ad abolire la pena di morte oggi è abolita in 106 paesi del mondo su circa 200 stati del mondo ancora più della metà della popolazione della terra vive in paesi in cui l'ordinamento penale chiede come estrema razza ma comunque la pena di morte ecco i valori di civiltà dell'umanesimo dei diritti della libertà che la toscana sempre esprime per prima 235 anni fa sono attuali un evento che ha visto anche la presenza dei vari consiglieri regionali per una volta la politica è stata messa da parte e senza distinzione tutti hanno manifestato l'importanza di mandare un messaggio di svolta culturale partendo dalle scuole come hanno evidenziato sia marco casucci della lega che francesco torzelli di fratelli d'italia il primo stato al mondo ad abolire la pena di morte occorre continuare in modo serio autorevole la battaglia per i diritti contro tutte le forme di odio anche nei nuovi moderni mezzi di comunicazione nei social occorre fare massa comune per dire stop a tutte queste forme di odio che ancora colpiscono chiunque nella nostra società lo vediamo tutti i giorni ma quello che mi sento di dire in particolare oggi è che ancora in un periodo delicato quale quello presente però vediamo arrivare i sindaci e loro delegati da tutta la toscana e questo è un gran bel segnale sono contento di aver dato un contributo in questo senso perché soltanto con l'unitarietà ma anche con le idee chiare con lo spirito di autonomia e di dare forza ai territori possiamo davvero ripartire come toscana ringrazio l'ufficio di presidenza della regione toscana per aver deciso quest'anno di dedicare la festa della regione proprio alle speech ai discorsi d'odio chi fa politica c'è abituato ad avere anche persone che ti insultano che ti che ti usa che usano vocaboli non constoni sui social ma vedete in realtà noi dobbiamo fare un'operazione che è un'operazione culturale noi dobbiamo raccontare partendo dai bambini e delle bambine delle scuole partendo dai giovani dai giovanissimi da chi utilizza più di altri la rete i social e spiegare che in un social network si sta come si sta in un bar come si sta in un ristorante come si sta su un autobus come si sta a un teatro e siccome poi per fortuna nel mondo reale molti di quelli che magari quando sono dietro una tastiera utilizzano certi tipi di linguaggio non avrebbero mai il coraggio di utilizzarli per fortuna di fronte alle persone che hanno davanti allora va spiegato semplicemente questo che sui social si vive come si vive nella società sulla stessa lunghezza anche vincenzo ceccarelli del pd stefano scaramelli italia viva e rene galletti del movimento 5 stelle i tre consiglieri hanno sottolineato il ruolo della toscana nel contesto storico e culturale e la necessità di continuare a lottare contro le discriminazioni verbali e non che ogni giorno si ripetono la festa della toscana è nata per rafforzare l'identità della comunità regionale ma anche per ricordare l'atto rivoluzionario che fece piatto leopoldo con l'abolizione della pena di morte rendendo la toscana la all'avanguardia per quanto riguarda delle scelte di grande civiltà oggi rafforzare la civiltà e la giustizia significa anche contrastare il cyberbullismo significa contrastare le fake news che vengono diffuse nella rete alimentando sentimenti di odio quindi credo che la festa della toscana ogni anno sia un appuntamento importante per riaffermare quei principi di civiltà quei principi di democrazia che sono nati se vogliamo dirla così con pietro leopoldo ma che debbono continuare con scelte che giornate come queste sono in grado di rafforzare 30 novembre una giornata importante per noi toscani è la festa della nostra storia la nostra identità la nostra cultura la capacità che abbiamo avuto nei secoli di dimostrare al mondo quelli che sono i valori dell'uomo i valori del rispetto degli altri la non violenza il fatto di rispondere alla violenza senza rispondere con nuova violenza l'abolizione della pena di morte che oggi attualizzata dimostra quanto la toscana può fare tanto come ruolo istituzionale insieme ai sindaci che ringrazio per la loro presenza con tutte le istituzioni e credo che questa sia una giornata importante che deve dimostrare quanto la toscana nei propri valori può credere può di e può testimoniare di essere in grado di innovare siamo stati in grado di cambiare nel 1786 dobbiamo essere in grado di cambiare oggi perché sono nuove forme di violenza che sono verbali non verbali sono mentali nei comportamenti negli atteggiamenti sono sui social sono in tanti meandri della società hanno il compito di andare a redimere le persone a denunciare le violenze ma essere in grado anche di innovare in termini di tutela dei diritti garantendo i doveri io credo che quando si parla di violenza sia fondamentale e far capire a tutti che la violenza non è soltanto fisica ma che quella psicologica quella una violenza sociale delle volte e che si esercita anche sui social e non soltanto di persona può essere ancora più dannosa proprio perché appunto è strisciante e tocca tutti quanti e la toscana in questo deve essere tra le prime a richiamare l'attenzione dei diritti anche il diritto a una vita priva lontana dalle violenze e di ogni tipo abbiamo assistito anche in questi giorni a episodi inaccettabili anche di violenza nei confronti di una giornalista ma in realtà la violenza è presente la violenza è presente nella nostra vita di tutti i giorni e quindi oggi festeggiare la festa della toscana significa anche fare memoria delle nostre radici fare memoria di quel periodo nell'epoca dell'illuminismo in cui la toscana prima ancora che beccaria scrivesse il pubblicasse il dei delitti e delle pene aveva deciso che la pena di morte era una misura contro la persona e contro tutta la contro la morale contro tutti i valori per cui ancora oggi la toscana deve continuare a battersi al termine della seduta solenne che ha visto la partecipazione di tanti attori della nostra società è stato firmato il manifesto della comunicazione non ostile 10 i punti contenuti e la volontà di diffonderlo nelle scuole a partire dal prossimo anno non solo per sensibilizzare le giovani generazioni ma soprattutto per renderle partecipi e promotrici di questi valori per chi ci vive per chi arriva da fuori e per l'ambiente nel 2019 la toscana ha iniziato la guerra alla plastica una sfida tutt'altro che semplice e che è lontana dal traguardo finale però dopo due anni di sperimentazione è stato tracciato un primo bilancio del progetto mytoscani is plastic free conseguenza diretta della specifica legge che ha visto per prima la nostra regione mettere al bando dalle proprie spiagge la plastica monouso e dedicare uno specifico progetto di sensibilizzazione ambientale l'iniziativa si è delineata attraverso varie attività a partire da quelle rivolte alle scuole con attività di divulgazione con l'obiettivo di sottolineare la valenza tecnico scientifica di azione di riduzione conferimento e trasformazione della plastica creato anche un kit di educazione ambientale e la realizzazione del premio scuola plastic free poi ci sono state quelle pensate per le amministrazioni locali e per il mondo delle imprese balneari attraverso un vademecum del turismo sostenibile con alcune pratiche per l'incentivazione di servizi ecocompatibili e il concorso lido sostenibile un punto di partenza importante anche se antonio mazzeo presidente del consiglio regionale ha posto un traguardo ambizioso rendere la toscana entro il 2030 la regione più sostenibile di europa la toscana ha scelto sempre qual è la parte giusta della storia da acquistare ed è per questo che nel 2019 ho voluto con forza utilizzare nell'avanzo i soldi che abbiamo risparmiato dai costi della politica per investirli su un progetto di sostenibilità ambientale per dire che la toscana deve diventare entro il 2030 la regione più sostenibile d'europa per farlo con fatti concreti come l'eliminazione della plastica nelle nostre scuole sono felice che a questo progetto abbiano aderiti migliaia di studenti tante scuole l'associazione del balneari i nostri sindaci perché questa è una sfida collettiva è una sfida che possiamo vincere tutti insieme perché lo scopo di chiunque di noi si impegna nelle istituzioni è quello di lasciare il mondo un pochino migliore di come l'ha trovato e io vorrei alla fine di questi anni lasciare la toscana un pochino migliore di come l'ho trovata un anno fa risultati e obiettivi sono stati delineati nel corso dell'incontro che ha visto alternarsi sul palco tutti i protagonisti di questa campagna da francesco tapinassi direttore toscana promozione turistica a jacopo di passio presidente di fondazione sistema toscana fino a federica fratoni oggi consigliere regionale ma due anni fa assessore all'ambiente e tra le promotrici dell'iniziativa e noi siamo percepiti così siamo percepiti come una regione molto verde molto attenta a questi temi molto sicura e in questo caso la scelta di coinvolgere tutta la filiera dell'offerta turistica della costa fare della formazione per le scuole sensibilizzare i nostri visitatori con l'esposizione artistica in alcuni comuni era proprio finalizzata a dire quanto sia green la regione toscana anche nell'ambito del turismo sostenibile forse magari dagli italiani viene percepito meno ma gli stranieri hanno una grande sensibilità su questi temi sì infatti l'argomento vero da trattare proprio quali scelte si facciano per comunicare efficacemente la sostenibilità nel turismo e questi 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 strumenti questi questi mezzi questi claim devono assolutamente adattarsi alle sensibilità diverse è un primo iniziale bilancio dobbiamo considerare che la regione toscana ha dato il la con una legge regionale ad hoc solo due anni fa e sappiamo tutti che questi sono stati degli anni rallentati e lo sono tuttora ciò nonostante siamo riusciti noi di sistema toscana e toscana promozione turistica con delle iniziative mirate a coinvolgere la filiera produttiva le scuole e gli operatori turistici declinando attraverso terminologie e apparati piuttosto semplici l'obiettivo che era quello di decrementare l'utilizzo della plastica monouso a cui tutti noi siamo piuttosto affezionati perché è veloce è smart come si dice e ce ne possiamo disinteressare subito dopo l'utilizzo il problema è che questo utilizzo inconsapevole ci ha presentato il conto e lo ha presentato alle nostre coste al nostro sistema di valorizzazione ambientale e quindi abbiamo dovuto subito innestare la retromarcia ecco dopo questi primi due anni il bilancio è più che positivo perché il sistema ha raccolto l'appello Penso che sia il primo tassello ma fondamentale per disegnare una toscana che sia libera dalle plastiche fra l'altro in questi mesi di pandemia è chiaro che l'utilizzo della plastica è tornato a salire per ovvi motivi di emergenza sanitaria e di praticità nell'utilizzo soprattutto di tanti dispositivi medici ma non c'è dubbio che la direzione intrapresa non si arresta a essere qui questa mattina nel premiare le scuole nel premiare le esperienze virtuose che soprattutto fanno cultura dell'ambiente nella nostra regione e soprattutto valorizzare alcune collaborazioni importanti con legambiente con gli stabilimenti balneari ovviamente ripeto con gli istituti scolastici soprattutto nella chiave turistica toscana sappiamo che i flussi turistici sono quelli più difficili da governare da un punto di vista di impatto ambientale però è anche vero che una certa sensibilità ormai diffusa può conferire alla toscana un valore aggiunto anche di appetibilità nella sua ricettività turistica grazie a tutti